Vai! Olè, pronti per la carica? Siamo forti, forti come un toro! Fate uscire il torero! Tutti quanti! Angero! Tutti quanti! Angero! Tutti quanti! Ciao, sono Giulia, otto anni, vengo da Guidonia in provincia di Roma. Lui è Davide, guarda il suo video! Ragazzi, indovinate di cosa parla il prossimo pezzo. Di un orango? Di un topolino? Basta, diccelo tu! Ragazzi, sta arrivando la nuova serie del cattolo in te lo secchino d'oro! Via! Lei è Elisa, lei è Camilla e lui è Francesco. Guarda il loro video! Che fai? Siamo proprio una grande squadra! Concorrenti alla linea di partenza! Io se fossi in te non ne sarei tanto sicuro! Lei è Elisa, lei è Camilla e lui è Francesco. Guarda il loro video! Lei è Veronica! Guarda il suo video! Guarda la mattina! Guarda il mio fratto, guarda il mio fratto! Vai! 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 Lei è Zoe, guarda il suo video! Ragazzi, indovinate di cosa parla il prossimo pezzo! Di un orango? Di un topolino? Basta, diccelo tu! Ragazzi, sta arrivando la nuova serie del cattolo in te lo secchino d'oro! Via! La 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 L'isola deserta! Accidenti, hai dato il meglio di te stessa! E cerco di accontentare il pubblico! Che a volte chiede la luna! E noi gliela diamo! E ora? Un pezzo leggendario! Sì, spaziale! Sei la nostra stessa! Ehi, amici! Mi vado di fare un giro insieme a me! Congratulazioni, Barbapapà! Sono bellissimi! Ciao, Frank! Benvenuto nella fattoria! Cosa ti porta qui? Wow! Del sapone! Sono felice! Del sapone! Ora posso fare il bagno! Del sapone? Che bel regalo! Ora puoi lavarti e togliere il fango! Io sento aria di festa in arrivo, amici! Ciao! Io mi chiamo Millie! E sono un piccolo super-erae! Woohoo! Io sono Joe! E io sono Bot! Insieme a noi siamo... Titti, mummi, zumi! Ho un'idea! Oggi faremo un picnic! Ti piacciono i picnic? Bene! Porteremo molte cose da mangiare per il nostro... Vai! Olè! Pronti per la carica? Siamo forti, forti come un toro! Fate uscire il torero! Tutti quanti! Anziano! Tutti quanti! Anziano! Tutti quanti! Ciao, sono Giulia, otto anni, vengo da Guidonia in provincia di Roma. Lui è Davide, guarda il suo video! Ragazzi, indovinate di cosa parla il prossimo pezzo! Dio! Su, Yo-Yo! Stai per scoprire il segreto dell'immaginazione insieme a Lau Lau! Arrivano i Piplings e Weevaloo! Lui è Davide, guarda il suo video! Ragazzi, Saxi, abbiamo suonato tanto! Io sono un po' stanco! Io vorrei... Ciao! Sono sempre io, Millie! E io sono Geo! Il flauto fischiante! Meglio andare avanti per l'ostrazione, non si sa mai! E tu che dici? Ti piacciono gli spaghetti? Grande! Andiamo a dare un'occhiata! Sono nati sette piccoli di Barbapapà! Congratulazioni, Barbapapà! Sono bellissimi! Da oggi a casa giochiamo con... In giro per la giungla! È come quella in tv! Semaforo rosso, scattina! Parti e le camion! Aiutate Saltavia a mettere i segnali! Corriamo verso la scuola! Scappa che ti prendo! Con i tuoi amici, entri in pista con In giro per la giungla! Il centro commerciale delle Pini Bar! Che super camerino! Si prova, si paga, passa la carta di credito! Che acquisti! Ho comprato il gelato! Vediamo qualcosa! Il centro commerciale delle Pini Bar! Divertiti anche con il caravan e lo yacht delle Pini Bar! Le Pini Bar! Famos! Sono tutti contenti! Si vede che il bal... Ciao! Noi siamo il team Omizumi! E indovina un po'? C'è un ristorante nuovo di Zecca, Città Umi! È una... fantastica spaghetteria! C'è un ristorante nuovo di Zecca!